a tutto quanto lo zoom funziona che quella le vedi qui sotto penso su un zoom con zero no, penso proprio di no questo motore qua ha 170 cavalli siamo più o meno a 10 kg a cavallo si riprende, si, si, sono qua c'è un video bisognerà andare a destra per ghezzo si, a destra riprendo anche lo sbaglio di strada che faremo si, adesso faccio una prova allora l'era del cambio praticamente parte tutta anteriore parte tutta anteriore poi va fino al 50% ma prima hanno detto 45% poi hanno detto 50% però vabbè diciamo che è quella non gli da mai il 100% sul posteriore tu da qui non puoi fare nulla in pratica per forzare questa crisi no, niente assolutamente no si, quindi è un fuoristrada un po' atipico no, ma non è proprio un fuoristrada perché gli manca una cosa essenziale per essere un fuoristrada sono le ridotte o un blocco differenziale o ma soprattutto le ridotte perché ma diciamo che è un classico veicolo che se sei nelle grane riesci a levarsi forse poi no, poi tutto sta a vedere quando sei nel brutto io parlo di neve e ghiaccio che gomma è montato sotto perché se hai delle gomme di serie fai quello che fai quello che eh a vedere perché è un'espegno di inscrizione che non è un'espegno di inscrizione a tutti a tutti